Uvo! Uvo Uvo! Uvo Uvo Uvo! Sta paresemente strozzando! Chi era risultato dalla caccola? Chi è stato il Baldutz? Il Broski? Beccade questa! Pie... tutta per lei, signor! sono un po' sbagliata no vabbè non ho parole guardi tutti mattina si voleva solamente curare 34 di nuovo white una è sopra distruggita atto anche l'altra si risparava ma 63 tipo distrugga uno shot va bene l'uomo no ma dove che no 34 io la colo lì ti stai prendendo l'ora valentino e mici sono davanti a un bivio uno muore l'altro sopravvive e la scelta sta solo a te e se tu non scegli muovere entrambi faccio morire entrambi a che senso ha no non riesco non riesco non riesco e tu riviverai con il rimorso del fatto che potevi salvarne uno anziché farli morire entrambi eh lo so ma non riuscirei a vivere con eh no devi fare una scelta di aver scelto uno e aver fatto morire l'altro eh ho capito meglio di però di dire potevo salvarne uno e lasciare una vita mi butto io mi butto io eh no muoiono anche loro eh vabbè ci buttiamo insieme non ha senso non devi scegliere no non ce la faccio è giusto scegliere mo meglio una vita che due eh non ce la faccio ma com'è sta cassa sembri tu quando vai al chest sono qua dietro l'albero eh ora ce lo tosto io ok devo va bene no c'è l'albero c'è l'albero c'è l'albero c'è l'albero salgo su si si salgo su con che con l'albero dai li ho fatto 80 perché sei la più solita eh più solita ok io ho ho acceso un cane 46 e uno è il craccato di sotto ho fatto uno 44 è quello non c'è il testo 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 verso dove? eh sul dovest ok va bene fantastico eh marcis qui a destra buona buona ho visto qua? si l'ho visto no io ho sparato a posto sticca di ned knock 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 andiamo andiamo che pre fire che gli ho fatto knock knock e manda qui dietro porca va knock 2 vai 105 sticcata vuole? morta scusa 105 più 25 25 è blu non ha senso a casa mia che draghetto buonasera che bella pecorena che bella pecorena secondo me ho visto 2 non mi t5 perchè sei un po' ciecata no 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 comunque ho fatto una bella tripletta quindi sono molto soddisfatta eh qualcosa la non posso in quanto zagorita mi ha appena detto che how you 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 se siete dubbi dubbi per il momento ma porca perchè? 850 ho fatto questo? bravissima bravissima sticcata cracate supereroe vienilo 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 Allora? Eh, tieni di giù? Vuoi un big? Vai, scappa da uno qua dentro, un alpinista Muore Si cade in volo, si cade in volo Ma cado? 169, no, morta, morta, morta Ha una craccante, questo Stic Morta Raga, arriva da dietro pure No, 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 sclero No, non sclero, marto L'ho salvato, l'ho salvato, l'ho salvato Mi devo levare a chi fa Stava Vieni No, copri, 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 tu copri Adesso io Eccoli là Io la secco Si cade in head, dovrebbe morire Morto, no, cado Cado, no L'altro 36 Uno sotto il ponte, uno sotto il ponte Uno sotto il ponte Quello del ponte, guarda ma Madonna mia No, vabbè Dove stanno, ragazzo? Caccato questo Laura Bianca L'ultimo player Uno The last one Eh sì, ma buona fortunata Vare sto Sto ultimo giocatore Questa è qua da me 105 Che la fai? Vada, vada, Giorgina Vada Vada 33 comiglioni di Cristo Me lo sentivo che era in sto bush, raga Quello lì grosso? Sì Mamma mia, raga Voglio vedere i danni, sono curiosa Ho rifatto le peggio robe Madonna, quanti? Vabbè Io ho umile con il mio 42% di precisione Quanti danni hai, no? No, non ve lo dico Dimmi i danni No Io ne ho 2500 2505 E 42% di precisione Io ho 50 9 kill E 9 assist Io ho 56 di precisione E 4800 danni Quasi 5 mila Io sono uscita dalla partita Ila non ha mai visto nulla Quindi non può comunicarci Esattivamente il suo dato statistico E culinario Ineffettivamente precise Buono, buono, buono Questa era bella Questa era da canale Da canale